Benvenuti a nostra winery! Mi chiamo Barbara Gini e vi mostrerò il nostro cellar e i nostri vineyards. La nostra famiglia ha produttosto vino per una generazione e oggi Sandra e Claudio sono i servizi della compagnia. Abbiamo un totale di 60 hectare di vineyard tra il Suave Classico e il Valpulicella. Questo è il porto del nostro cellar storico che fu realizzato dal nostro padre Olinto. Si è riconosciuto come il maestro di vino di questa area. Il cellar è stato completamente legato nel volcani e per questo motivo ha piaciuto una temperatura stabile e umidità tutto il giorno. Spendendo sull'arco di stile in questa atmosfera magica troverete il nostro vino. Il vino resta sull'azio naturale per un po' molto tempo, partecipando in francesco e partecipando in piccoli stili. Poi si riferisce la bottola per alcuni anni prima di essere vendita. Qui puoi ammirare una delle aree più belle in Suave Classico. Qui è dove i nostri vineyards sono stati. L'upper parte della stile è la cruella chiamata La Prusca. Qui puoi trovare un luogo vulcanico e un'attività di vini di circa 90 anni. L'upper parte della stile è un'attività di eccellente e un'attività perfetto di temperatura tra giorno e notte. Se passiamo alla parte centrale della piazza troviamo le vini più vecchie che sono circa 130 anni. Alcuni di questi sono ancora inattivati. L'upper parte della vina e la minerale del suolo creano la nostra grande crue Contrada Salvarenza. Abbiamo sempre sviluppato la nostra vina in un modo natural senza l'utilizzo di chimica e siamo certificati organicamente. Grazie mille e spero che ci vediamo presto!